qui in live su twitch e come potete vedere dallo schermo siamo su call of duty mother wolf remastered ok aspettate un secondo che mi sto sentendo 27 volte aiuto 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 ok a posto a posto ragazzi perché call of duty remastered non lo so ma è perché facciamo questa live aspettando il prossimo call of duty l'imminente call of duty cioè world war 2 che arriverà nei negozi il 3 novembre quindi più o meno settimana prossima oggi siamo il 25 sì settimana prossima penso venerdì prossimo tipo bander testa di rame non so cosa voglio dire comunque non gioco a call of duty penso da un'eternità più o meno da 2 o 3 mesi e niente buttiamoci subito nella mischia direi un deathmatch a squadra normale perché così non esageriamo ovviamente mi scuso se farò abbastanza ridere però come vi ho detto non gioco da parecchio tempo quindi siate clementi ero bravo una volta su call of duty adesso decisamente meno ok va non inizierei di certo col cecchino magari mettiamo un m4 e vediamo un po come ciò che abbiamo ragazzi mamma mia quanto quanto tempo è che non gioco con lo duty un'altra tattica che forse probabilmente ho preso il palo tanto per rimanere in tema con fifa no non si passa di qua mamma mia ragazzi sono veramente arrugginito eh sono assai arrugginito probabilmente arriveranno da sinistra oh salve che culo i miei riflessi però rimangono rimangono buoni eh uh cos'è sta roba pazzesco sto mirino eccolo no venga ho perso il comando eh ce n'è uno ce n'è uno lì ah l'ha ucciso lui mannaggia dovrebbe arrivare eccolo no mannaggissima ragazzi siamo andati a rifugiare lì dentro io come lo piglio come lo piglio chiamiamosi di posto uh c'è un cechino là olè preso mi sento un altro eh sai che ce n'è bellamente un altro uh granatella aiuto dai come ho fatto a sopravvivere ma li stavamo sparando in due mannaggia oh call of duty sempre infame come sempre vado vado fai passare e vabbè eh dai ragazzi cioè è incredibile ho iniziato a sparargli io ma alla fine sono morto lo stesso mamma mia le smadonnate su quello di duty sono epiche dai che schifo che schifo mamma mia già mi sto incavolando la prima partita mamma mia ragazzi che camperissimi che camperissimi veramente era qua non c'è e niente ragazzi non voglio non morire dobbiamo cambiare il pagamento ma la mia classe silent hill incredibile eccolo lì ma com'è assist zio ma non puoi fare questo mi hai fatto l'assist oh no dai che sei qua no eh vabbè io me ne vado di qua ah non c'è nessuno proprio ah se vuoi clicca mi fa pescere elicottero esosi ma dai ma guarda te che roba oh ero partito bene poi ad un certo punto ho incominciato a non uccidere più nessuno eh vabbè sarà vita no ma guardalo qua mi ha proprio inseguito sto infame no vabbè ragazzi comunque dobbiamo concentrarci un po' di più eh non possiamo fare questi figuracce poi ci sono sti fiacchi di camperoni e vabbè eh eh poi siamo partiti siamo capiti proprio nella guarda lì tutti a camperare mannaggia non vorrei quittare la prima partita però ragazzi cioè ok guardate siamo due siamo ultimi due e otto mamma mia penso di aver mai fatto uno score così così brutto su pro-duty adesso mi metto a camperare anche io ovviamente arriverà da dietro perché è semplice così dai eccola ah la testina la testina di cazzo proprio e vabbè ma io gli sparo non li prendo cioè e il bello è che c'è pure la vita in più ma no era un amico ma no che cacchio sta spizio vabbè avete visto ragazzi che io ho sparato ma non è successo nulla è incredibile è incredibile guarda te guarda te che te un po' mi piglia anche così dai cerchiamo di di recuperare questa partita è inutile ovviamente l'elicottero sempre oh e che palle si per madonna si si che ampera con un demente vabbè pure l'elicottero mi uccide mamma mia stiamo facendo una pessima pessima media ma vabbè la prima partita dai ragazzi ci sta ci riprendiamo subito appena vabbè l'elicottero mi riprende attraverso le cose lasciamo perdere ma guarda che culo ma addio devo stare calmo ragazzi si scolodiuti veramente incredibile guarda te che camper schifoso guarda te dai vieni fuori butta per la testa e dai e vabbè mamma mia che prima partita da libero sto facendo è proprio c'è sti qua sono tutti a camperare legamento andiamo vabbè c'è ragazzi più che mirarli più che mirarlo e spararli addosso è un po' sbaglia adesso metto qua a camperare guarda che è sfigato godo godo mongoloide cacchio se godo cacchio se godo anche per te guarda te oh non miro e uccido la gente mamma mia vabbè ragazzi ho cominciato a carburare come no cheat incominciato a carburare mi prendono da dietro va bene sì ma questo qua mi è rinato dietro non lo so vabbè dai 0 8 16 mamma mia peggior score mai fatto su godo di ultima dobbiamo riprepararci dobbiamo riprepararci alla beta che poi in beta non siamo neanche andati male comunque giocavo benissimo soltanto che questo 4 è abbastanza diverso perché c'è un po' di gente che campera leggermente diciamo poca poca eh purtroppo non posso usare il cicchino perché mamma mia non riesco a uccidere la gente tra un po' termini normali vediamo vediamo di far meglio anche se ci sono sti qua sono praticamente tre quarti dei partecipanti a sta lobby sono di camper mostruosi probabilmente si dai 100 miliardi di euro rimangono lo stesso fermi vediamo che se può fa non ci sono neanche tanto 21 ore vediamo vediamo showdown che palle ragazzi non è che mi faccio impazzire più che altro è una mappa veramente veramente piccola mi devo riabituare in fretta a giocare perché se no finisce male in attesa di altri giocatori dai vediamo prendiamo sempre il nostro M4 vabbè peggio della scorsa partita non pensi se è possibile di fare vabbè cerchiamo di fare meglio ok dai me l'ha già rubato mannaggia te mannaggia te oh mamma mia no 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 va bene ok mamma mia che camperoni chi mi ha ucciso da dietro da dietro sto in fame ah ah suca mi disp oh e basta però eh cioè ragazzi siamo in squadra con della gente in sta partita o no chieditemelo eh sennò me ne esco subito e dai un po' di riuscire a scappare santa polenta vabbè eh ragazzi o c'è un problema di connessione o veramente incredibile cioè io gli sparo e non hai il juggernaut il bello eh guarda te guarda te che roba e dai non posso neanche cambiare arma che mi uccidono mannaggia oh ma cos'è dai camper su ti aspetto ti aspetto adesso guarda te che sfiga appena metto fuori il piede appena metto fuori il piede o arriva il tizio è una condanna è una condanna ragazze ma dove è la piccola aiuto rossi che non ha un'altra di abilare l'arbi vodo vodo ah adesso mi lascio le biette no si si decisamente mi lascio le biette ma guarda te che roba ma guarda te che roba e vabbè mister camper che tenta di stare sui 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 che cacchio fa nulla la vita hai però devi morire zio se io ti sparo muori neanche c'è tra strada comunque siamo pregati questa partita in questo momento va bene dopo mi spiegate tutte se morti cioè vorrei proprio una spiegazione scientifica a come sia possibile che come cacchi sia possibile che io ho il juggernaut ma è come non averlo ma guarda te che roba ma guarda te che roba no oh si è per si muoio una fedora no No, no. Vediamo un po' quello secondo me qui. Niente, non c'è nessuno. Salve. Mi spiace, eh? Però, ad una certa avete un po' rotto il piazzo. Mi spiace, eh? Ma ad una certa avete un po' rotto il piazzo. Veramente, eh? Mi spiace, eh? Però, ad una certa avete un po' rotto il piazzo. No, me l'ha rubata, me l'ha rubata, me l'ha rubata. Sì, ma dai, ragazzi. Eh, vorrei... Salve. Ma buongiorno. Ma salve. Mi fate usare sto cacchio di robo, qui su? Dai. Oh, fammi usare sto cacchio di robo. Ah, ma guarda a te che roba. Vabbè, dai. Abbiamo fatto decisamente meglio. Infatti... Siamo tornati a livelli standard, almeno 1.5 di media. Che fa schifo lo stesso, però... Non è male. Il problema è che abbiamo fatto due sconfitte di fila, cioè... Ragazzi, su via, eh? Svegliamosi, svegliamosi. Dobbiamo sboccare il prestigio per fare la classe. Oh, è vero che hanno rimesso anche le mappe vecchie, che non sono queste due, ma quelle di prima. Hanno messo anche una mappa che non avevo giocato assolutissimamente. Questa, il G3, è utile per veterano, ma... Sinceramente... Ah, è vero che hanno ammesso un bel po' di armi nuove. Il CQ3... Il CQ300, qui. Come si chiama lui? Questa è da quanto tempo è che non ci gioco. Quante cose hanno messo? Ranger... Ah, i Ranger! Quelli di Mv2! Mamma mia! Ti ricordi, ragazzi? Mv2 andava in giro a fare brutto con i Ranger Akimbo, oppure i Model Akimbo. Erano stupendi. Papapairam. Papaparaparaparapam. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Soldati, non fate i prigionieri. Va bene. Per me... Muoio. Ok, ci ho fatto a sopravvivere. Vediamo se c'è qualche infamia lì. No. Qualche infamia di no? No, per ora è l'infinitivo. Salve! Ti rado. No, ho fatto uccidere. Salve! Ma come assist? Come? Come assist? Salve! Ehm... Ah. Uh. Perché chi è l'altro tizio? Ah, forse sopra. Vabbè, io mi ne sopra. Finché... Andate? Ok. Ah, forse. Andate. non ci credo ma guarda che culo che ha la gente dai vabbè ma incredibile più culo di così la gente non so no c'è ragazzi la gente ha proprio un culo incredibile nella vita e vabbè e va bene e allora lui spara a vuoto e mi prende va bene ma guarda dov'è mamma mia che schifo ecco perchè io non giocavo più a quello di utile perché non si può e spero che il nuovo code non ci siano stick hamperin guarda se sei ancora là ti squarco ti squarco ti squarco no non siamo ho paura no madonna la claymore madonna ma la claymore ma non la vedevo da 72 anni che è che è che è che è che è sto aiuta guarda che roba sono rintanati tutti ieri guarda la god 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 aia e vabbò mizzi che ragazzo dietro ogni angolo solo sono dietro le fottute e io e vabbè sempre un po di nemico dai ragazzi però fate qualcosa no vabbè ma com'è possibile io gli sparo e lui non ha il juggernaut e io muoio ma cosa serve sta cosa ma incredibile ma guarda che cante vabbè io il mio figlio no non so c'era un tizio ma non è un tizio non morire non morire non morire eh 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 grande ti carica prima di giovani salve salve dai so che sei qua ah si può fuori super di me eh io non mi muovo da qui attenzione salve olè buongiorno aiuto aiuto dai fammi l'uccisione ride dai no eh io mi abbasso e chi mi ammazza dai no eh no non ci credo non ci credo come ha fatto ma ragazzi ma sto juggerna serve davvero non so e poi mi ricordavo un po' più forte e lì dove cacchio è e vabbè figa il camperone il camperone corcecchino ma godo godo waiting for godo ma godo double headshot regicida ah guarda che camperoni ahia guarda è spuntato sto tizio oh c'erano eravamo in tre a coprire quella zona lì ma in qualche strana maniera misteriosa non c'era più nessuno guardano ma come scusa ma guardate che sfigato madonna 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 ragazzi che sfigato mamma mia ragazze la peggio specie poi e vabbè gli ho sparato sulle caviglie penso ma perché perché non lo prendo vabbè se la vi che gli sparo sui piedi ma il nuovo figlio incredibile uh siamo migliorati decisamente ragazzi rispetto alla prima partita dove abbiamo fatto davvero schifo adesso ce la stiamo cavando discretamente dai vediamo un po' dire che possiamo anche cambiare modalità tanto per trova partita caccia agli oggetti pazzesco questa cosa qua da quando l'hanno messa incredibile ragazzi non l'ho mai fatto non l'ho mai fatto una modalità simile non l'ho mai fatto una modalità simile ce l'ha tanto credibile pensa a te che roba ti sono inventati caccia gli oggetti io lo dovrei fare quindi intanto si sono il mio P90 sta che entra acquisendo colpi ho detto nascosti 27 secondi trovi lì lì il mio stile ah ma è tipo nascondino dai è incredibile ragazzi scoprire cose nuove dopo un anno dall'uscita eh mi sa che si è tipo nascondino ma questo dove sta oggetto eliminato ok ma che roba ragazzi ma è una roba assurda sta qua ma quindi a quando l'ha messa che roba fischio tra 10 12 secondi ma che roba se ti devi studiare la memoria la mappa per sapere cosa c'è in più tipo non trova le differenze fischio se sono abituato ad esserli che ho fatto un doppio salto guarda che è lì lo dovrei cercare esattamente se voi lo sapete dicemelo perché non so sinceramente capendo molto tipo questa roba qua no incredibile cacche le berche ma ho visto il gosso qui ah fischio cosa sta roba ah forse qualcuno forse qualcuno ah perché ho le munizioni infinite ecco perché è incredibile è incredibile cioè sta fischiando il tizio ma dai che roba oggetto eliminato sì ma io vorrei capire un po' che chiacchio ha questa roba questa roba no dolang è morto mista c'è qualcuno che fa aspetta aspetta probabilmente sarà di qua il tempo sta per scadere oggetto eliminato ma questo sta sparando a mezzo sì ma che oggetti che oggetti a caso proprio cioè tipo questa anguria qua no capisco tre oggetti in vita ah mi sa che abbiamo perso ragazzi guarda che roba ah 17 secondi ancora no non capisco quali oggetti questo è un oggetto no è finita mi sa che hanno vinto tempo limite raggiunto ma guardate che roba ah era una porta ma guardate no adesso voglio provarla sta cosa ah sono uh sono un materasso ma guardate che si sono inventati questi qua ma guardate che si sono inventati questi qua ma io posso volendo posso buttarmi sopra no ah chissà che mi trovano subito eh sono facilmente visibile ancora in vita eh ah posso cambiare oggetto ma stai male aspetta aiuto 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 che roba non posso andare dai che cagata ah non posso più non posso più hai capito non posso se non cambi rimasti probabilmente mi vedranno ragazzi è una roba troppo malata sta qua è una roba troppo malata ma guardate che roba sono un tavolino però mi vedono se mi giro quindi stai perfettamente immobile eh sta cosa di cambi non la sapevo perché se ti va di sfiga quindi non puoi fare più o meno quello che vuoi capito capito sopravvissuto ha fatto primo sangue dai manco un minuto ragazzi che roba non me lo sarei mai aspettata sta cosa poi che diciamoci che modalità è vabbè sono un cacchio di tavolino ahia mi sa che mi hai quasi trovato cioè manco solo io più che altro vediamo se riusciamo a rimanere in vita so che non è molto emozionante però vediamo ahia l'ultimo ragazzi l'ultimo 20 secondi per me mi trovano di sicuro chi è abbandonato quindi secondi dai ti prego ti prego dai 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 8 7 6 5 laia ragazzi incredibile pareggio la partita con un tavolino pareggio la partita con un tavolino mi vergogno anch'io a dirlo ma è così incredibile però cioè si sta sta mobilità per passare un po' di tempo così cioè veramente non so come se la siano inventata ma va bene va bene che roba ma quanti siamo ah va bene siamo un bel po' ah però in squadra siamo in tre mannaggia ragazzi invece metti i prodotti sempre un po' spigoloso e abbiamo preso un Goku eh ahia ah lì già ho così eh a sapere sapessi che oggetti che oggetti lui si ci si può trasformare non so neanche cosa io abbia detto però a saperli eh l'ho visto che qui praticamente diventare una scatola una gomma no vediamo una bottiglia no e cosa spara su tutto no ecco comunque c'è il fisco che mi dice più o meno dove sono eh però capire chi cacchio sparare una bici no la bici c'era una ricordata questo tavolino qua non lo so no c'era anche uno eh questa roba no no eh no tanto non possono andare qua quindi per me è per forza ah questo lo fa potrebbe essere bella dobbiamo guardare gli angoli oh l'ho preso ma guarda che roba dai ma chi cacchio cacchio se l'aspettava sta roba incredibile ah che ho visto che ho visto che ho visto che è che c'è andato ah ah è scappato via ehi che ho visto ah godo godo colpo finale ah c'era un altro vediamo no no non laggare non laggare please c'è chi era l'ultimo c'è 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 ha visto qualcuno muoversi per me è qua sopra perché oh no è una foglioline oggetto eliminato grande questo cuscino qua questo è una dire qua c'era attenzione anche i tappeti perché i tappeti sono sono pericolosi eh no stiamo perdendo ragazzi 30 secondi qua ci siamo stati questo tavolino dai non possiamo perdere di nuovo mi dice che perdiamo tre oggetti in vita non sapremo eh no peccato peccato due a uno che roba però mi sembra chi se la sarebbe mai aspettato una modalità così guardatevi guardatevi a prossimo guardate questa sedia credibile ah c'erano proprio lì che viaggiavano e questi qua non se ne sono accorti che grandi oh tavolino potrei andare sullo stesso posto di prima ma cambiamo vediamo ho un cambio questo qua è impossibile da vedere ragazzi se riesco a mettermi eh confermo leo è la stessa domanda che mi sono posto appena appena ho trovato questa modalità perché veramente ti rendi conto che è qualcosa di senza senso all'ennesima potenza ma qua non posso andare mannaggia eh no qua mi sgamano mi sgamano bellamente proprio qua eh non saprei ragazzi eh non saprei se ci conviene eh eh bella definizione ho paura di fare un altro cambio perché se mi viene un oggetto in mastodontico potrebbe essere un gran problema però ragazzi chi se ne frega chi se ne frega un cavolo questo non era previsto non era non era previsto scusatemi non era previsto questa cosa non era prevista non era prevista non era prevista mannaggia 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 non era prevista sta cosa non posso tiraglia una cassettata adeguamento pendenza adeguamento pendenza però non mi sembra che sia cambiato qualcosa per me ci sgamano bellamente siamo siamo una cassettiera in mezzo alle macerie se non ci si chiamano adesso o siamo dei geni del male probabilmente sono degli idioti i nostri nemici aiuto io so eh ma adesso sanno che siamo una cassettiera eh non so se ahia vabbè alla fine doveva no già succedere eh mi aveva visto mi aveva riconosciuto mannaggia non so se posso trasformare in una pianta grassa eh cioè per ora ho visto il cosa che era il materasso il la cassettiera la cosa della frutta poi cosa che c'era il barattolo non so sinceramente quali siano le altre opportunità il pneumatico ma è veramente fuori di testa cioè bah chi se lo sarebbe mai aspettato eh però era un bel nascondiglio quello lì eh il problema è che gli altri non dovrebbero vedere cioè gli altri dovrebbero vederti come giocatore per me perché sennò sapere già gli oggetti che puoi distruggere alla fine facilita un po' la cosa la ricerca che non penso e vabbè questa sedia qua che si muove a caso ma davvero pazzesco ragazzi cioè la sedia è riuscita a vincere muovendosi a random ok per la serie Call of Duty è un gioco sensato big bad è un pareggio fantastico chiudiamo con 1-1 va bene va bene direi che possiamo bellamente cambiare modalità perché vai di si di acciaio confermo era proprio uguale cambiamo la modalità perché ok va bene tutto ma non è esattamente quello che cercavo nella vita eh buoni ai dominio classico dominio anche se caspita questa roba degli oggetti mi ha sconvolto cioè potrei rigiocarci ogni giorno della mia vita uh block sta mappa qua ci saperfoggia e il cecchino purtroppo devo un po' riprenderci la mano vai proviamo a usarlo lo stesso ma non vi assicuro niente riusciamo anche a fare dei base core però bah non so con la mia mitica deadshot nome classico incredibile si è unito alla no abbandonata la partita mi spiace soldati facciamo prigionieri ah siamo tutti i cecchini fantastici ovviamente il cecchino cioè non dico che campererò qualcosa di simile di sicuro lo farò tipo così tipo così sì ma ragazzi però è dominio cioè se io faccio il cecchino questo non vuol dire che tutti debbano fare il cecchino eh mannaggia ok ci siamo ci siamo con la mia ci siamo eh perdendo B non va bene non va bene questo andà molto bene andà molto bene andà molto bene alalalalalalalala ok prendendo bravo tutto l'UAB bravo tutto l'UAB no non meno bravo eh sono tutti lì ma dov'è perdendo raghi raghi eh mannaggia no eh ma ragazzi c'è qualcuno in questa mappa dai qualcuno è qui ciao ah ma ci hanno rubato pazzesco scusami adesso mi sono rotto le palle ma questo palle devo uccidere anche nessuno fantasmagorico fantasmagorico in realtà mi sta spiacendo non prendere B eh ok lì la sfiterina prendete fatturiamola ecco non è non è non è non è andata no 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 non va bene perdendo eh che cosa ah l'unica volta che mi sono scorto sono proprio un idiota con la S maiuscola di sono no 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 dai ma guarda ce l'ho preso 73 volte e mi ha dato solo una e non l'ho ucciso è di B no ma non posso stare così ok salve mi spiace scusate me lo deve salire questo posso infernale mi ricordo aspetta aspetta ma dov'è mi ricordo se ho il ho la roba che toglie il guard no come ho fatto a non pigliarlo sì no ok solo dai però potrebbe arrivare qualcuno prima o poi eh cioè non dico che dovete arrivare in massa però magari il Raikon dai subì e dai qualcuno oh salve aspetta sbagliata aspetta sbagliata ok sta bene ma che c'è che sto andando non è una pista stanza eh devo forza stare così ragazzi eh perché sono la guerra degli orsetti eh più o meno vediamo no cacchia appena tolgo il mirino arrivano tutti che disetto che disetto salve ma si però adesso mi spiegate come 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 non l'abbia preso al al secondo colpo cos'era perché è veramente veramente cioè io l'ho preso sinceramente col cuore però evidentemente non può sparare ah sono tutti lì mi fa piacere fa piacere fa veramente piacere fa veramente piacere fa veramente piacere dove è dove è sto mondo no 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 ho sbagliato sono un idiota sono un idiota sono un idiota eh sì sono un idiota sono un idiota ragazzi non c'è altra strada non c'è altra strada non c'è altra strada no intervallo quando stavo virando il tizio eh comunque sta mappa in dominio o cioè siamo comunque oh nella mia mi fa ci sento stupendo vabbè non è che abbiamo fatto questo granché sr sr tererita e domindio all'alcolico biondo fai impazzire il mondo non so perché io vi ho detto una cosa sul prodino va bene guarda lì vabbè eh ok 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 ma guardate che roba guardate che roba gli ho sparato 77 colpi in testa ma eh fa moglie fa moglie fa moglie no non muoio sicuramente ma ma guardate che roba salve 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 la ride aereo mi gusta mi gusta mi gusta la ride aereo eh l'ho buttato un po' male grandi subì mi gusta non ci credo non ci credo il tizio che sopravvivere ogni cosa nella sua vita ho una no 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 niente eh questo è un'altra elicottero elicottero mamma mia ragazzi come sto giocando col cecco come sto giocando col cecco signori come sto giocando col cecco è questo adesso arriverà qua e io bello campererò campererò senza pietà senza pietà io campererò guarda come faceva a sapere che io ero lì ma scusami eh ah ecco perché c'era la mannaggia pensavo di venerci e invece oh vabbè quello lì cioè avete visto dove guardava il mio compagno perché adesso veramente è pazzesco ah guarda lì non so come abbia fatto a non uccidere tutto poco non lo fio stesso ok ok ma che è che si entra se forse non fermare mamma mia non scopo non scopo ragazzi non scopo un gazz attento 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 è lì zio è lì zio lo sapevi zio eh è cucchia un'epicinque stupendo io ne vado eh comunque lo so io perché non ho perché non ho il poso e io camplo qua ragazzi no non me la rubare ma guarda che roba no 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 eh vabbè ma oh ma neanche un secondo cioè dai ah il fucile a pompa madonna ragazzi spieti di scherzo mannaggia mannaggia eh vabbè a destra a sinistra su giù e allora e che è oh ma che roba ma che roba dappertutto sono minchia che due coglioni è una squadra di idioti che non copre niente mizzi che la veri pro caspita mannaggia ragazzi cioè ho fatto più punti io di tutta la squadra ho usato il cecchino in dominio pensate voi come siamo messi livello 52 non c'è f*** niente in realtà chissà però dovrei aver sfruttato qualcosa no la cuccagna la mimetica digitale da quanto tempo non ci gioco a sto gioco mi ha sbloccato l'MP44 aia merito ragazzi, non me lo merito, non me lo merito su dominio di cheat met, eh? Che falle, penso sia la mappa che odio di più al mondo, dove far dominio è l'unica cosa che non puoi fare, ma gli sviluppatori così ci sono un po' matti, preparatevi a un rapido decisamente negativo, e niente, speriamo di soddisfare l'identità di clientela, anche se sarò. morto, tra, undici, dieci, nove, otto, sette, sei. Ah, è antisociale? Incredibile, bel nome, benissimo, andiamo a morire. Ah, sono ancora vivo, però. Questo là, ah, questo era per me, pazzesco. aiuto, non so, non so, non so, non capisco, capisco, non capisco, non sto capendo, non sto capendo, aiuto. dai, ma questo qua? Cioè, dai, la gente spara davvero ai muri, porco tensing. salve, 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 salve. non capisco nulla, non capisco nulla, trananananana, non capisco nulla, non capisco nulla. io campererò di qua. Muoio, 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 muoio. non muoio. eh, dai, guardalo lì. Ma si può camperare addirittura in questa mappa? no, no, non è vero, non è vero, non è vero, ragazzi, l'ho coltato due volte, non è successo niente. vabbè, io l'ho sparato in testa qui, non l'ho preso, non si sta bene come. dai, ragazzi, prendiamo B, per favore, 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 mannaggiasi qua che sparano dentro le botti. minchia, se siete proprio sfigati, però, madonna mia. aia, 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 cosa succede, cosa succede, cosa succede, cosa succede, questo qua si sparano al muro da qui. che triste, eh. dai, 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 dai. uuuuuh, presa però, succate, succa minchia. questo già sparava prima che io uscissi, pazzesco lui. no. oh, pure l'elicottero, mannaggia. e dai, non posso rinalci sulla gente che mi spara. no. e dai. vabbè, come, come avevo previsto erato evidentemente negativo. e non so adesso dove c'è il nome. eh, vabbè, l'elicottero, zio, penso. io metto qua adesso, voglio vedere. e poi abbiamo perso qua, ziggi. nooo. che disdetta. eh, mi sembra una buona strategia quella di campionare qua, eh. ma perché odio sta cosa. nessuno viene a prendere... eccolo. salve. vediamo, vediamo, ragazzi. io so qua, difendo qui. eh, 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 eh. così me gusta, eh. No, no. togliti, togliti, mongoloide! ma figa che idiota di uno! che idiota del cazzo! ma si può essere così rincoglioniti? ma vaffanculo, ma dai! Ma che cazzo fai nella vita L'idiota Ma io non lo so mi fai il blocco Che cazzo è invieni Che è che è handicappato Che è handicappato Che roba Che roba Che roba Quanto sono incazzato Avvocato Avvocato Sono incazzato Ma tu Era uno dal Dall'elicottero Ehi dai però Perché non me lo fai usare a me? Famvelo usare Ok Vabbè Vorrei anche vedere Il mio raid aereo Ho fatto un'uccisione Ok È giusto È giusto Strisciamo 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 Guarda Guarda che roba Guarda che roba Guarda che roba È mia l'ultima uccisione Gigantesco Sono gigantesco ragazzi Dai È così È casino Più totale Riusciamo a fare Un bel Decisione Dominio Eh Queste fa Sono complicate Prendiamo prima B Entriamo in azione E lì Vodo Grande 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 No Suo martirio Minchia Vi giuro Che suo martirio Vi odio Ragazzi Questo martirio No Come fa Non uscirlo Olè Dai Non so neanche Quanto uccisione Ho fatto No Però Alicottero Bella lì Bella lì Interessa Va di qui Ho 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 Vabbè Non chiedetemi Come sia possibile Come sia possibile Aver fatto Due Due volte Guardate Che roba Ho fatto Due volte Aiaiaia Non ho finito No Poi Dominando Qual è No Ma l'ho L'ho sparato in testa Ragazzi Come è possibile Che sia ancora vivo E riesca a dire La sua Credibile Oste Mortirio Di merda Sì ma Il mio Riccardo Potrebbe anche fare Qualcosa Volendo Dai 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 Olè Ma andiamo Ma andiamo Bravo Cavolo Guarda Scusi Tornerò Di camper Che sono No Mi ha preso Da dietro Sto mongolo Ma mi sono ucciso Sulla mia granata Che amica Ha fatto Anche qua Mi sono ucciso Sulla mia granata Stupendo Sono Sono Stupendo Sono una persona Stupenda Ehehehe Mannaggia A me Oh Buona Ma basta Quanti siete Guardate 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 Eheh Vabbè Questo Non so Che i proiettili Super Minchia Basta Con Su Martirio Basta Su Martirio Ragazzi Avete Un po' Lotto Il cazzo Eh Avete Decisamente Lotto Il cazzo Dai 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 Olè Olè Godo Oh Non è morto Oh Chi è che mi ha sparato Ma guardate Uno che sarà abbassato A morte Proprio Mamma mia Mamma mia Che Che salvataggio No Mi sono suicidato Sono un figlio Vabbè Io continuo a morire Ma non c'è nessuno Ma guardali Dove sono Chi è che mi ha ucciso Ma guardali Non vedo Non vedo Non vedo Eh Vabbè Ragazzi Però Non martirio Madonna Mia Guarda Che Camper Olè E vincono Ragazzi Vincono Nella mappa Più Brutta Del gioco Ma ce la fanno Sesso Troppo forte Troppo forte C'è Incredibile Ciao Addio Crediti Deposito Guardate Quanti crediti ci sono Troppo forte Pipeline Fatemela giocare Fatemela giocare Che ragazzi Possiamo fare L'ultima partita E poi Concludiamo questa live Aspettando Produtti World War 2 E Mica Mica era prevista Questa cosa Dell'incredibile Saluto Quindi non potevo Saperlo Così Non sapete mai Chi è il mio fan Numero uno Mi spiace No Hanno cambiato Mappa Infami Anche perché Strano che non Trasmetta Strano che non Trasmetta L'audio Di disco Però Pazienza Comunque Era Leonardo Se non lo sapete Se non avete sentito Se avete sentito E non avete riconosciuto Se avete sentito Avete riconosciuto E non sapete Chi fosse lo stesso Dominio Qua ragazzi In teoria Dovremmo fare Qualcosina In pratica Moriremo Vediamo Olè Già l'abbia Cicchiata Però Prima scissione Certo Non so Non capito Come abbia cicchiato Sulla roba lì No Ovviamente Non campererò Qua tutta la partita Si spero Dov'è Ah Ehm Sand C'è un tizio qua C'è Un altro tizio Ehm Noi Un altro tizio Sì No Non so Vabbè Ma per carità Ma per carità Ma guarda te Che culo La gente Solo è Ma è lanciata una granata A random Dov'è? Dov'è se fisi? Dov'è? Identifica Eccolo Madonna con la Ciappatate Con la Ciappatate Incredibile Proprio Lui Con la Ciappatate Lui Non mi prega Gente la Vita E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè Va bene Ok Ok Con i Dici Ok No Calmi Ragazzi Perché Invece Alire Guarda C'è Non Quanto Come Molto Non Campino Procettino Ma Panserà Lui Che Ha Le Quattro Aia Ma Come Sono Scalso Ma Lo Pidio Proprio Cioè Ragazzi Eppure Nel Mirino Che video Che video Di No Pensavo Se uno Morto Ma Guardate Che roba Suka Eh Mi sono messo Troppo In mezzo La mano Sono anche Babbo Questa cosa Questa cosa Non devo Farla Ma Che Non Sa bene Vai Che Che Sono L'ho Preso Ragazzi Questo Te Ricordo Tutta la Notte Ok Meglio Che Spanitza No 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 Non va Bene Non va Bene Ok Terzo Passato Nooo Era in testa Una calapra Aia Eh non sono mica così stronzo eh Eh però devo entrare Così Aiuto Mi serve una mano Scusate Scusate amici Sia questo è mortale È mortale È mortale Godo 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 Guarda Mamma mia ragazzi Sto giocando a dio col cecco eh Nobody can't stop me Perdiamo B Ah Olè ragazzi l'elicottero Che robin Che robin Ma che abbiamo B Prendiamo Dove cacchio siamo No E dov'è Nooo Mamma mia Ma come sto giocando bene col cecco Ragazzi E questo mi piaceva di quello di tutti Quattro Giocare col cecco E lo stiamo facendo decisamente bene Quattordici sei Purtroppo non ho preso nessuna bandiera E questa non va bene Perché di solito Credo che non prendo le bandiere Quindi sono un po' Un pirla Adesso vado a prendere il ciro Prometto Non mi metto Mi fermo qua A uccidere Se non mi uccido Non vedo niente Non vedo niente Togliti dal cazzo Ciao C'è una tessurina Granatella Ragazzi Non so Non so Non so Non so No Non va bene Ohle Eh Perdiamo B ragazzi Però eh Si muoio Oh E dai Madonna mia Muoio Salve E sono a 15 cilini di fila Ragazzi Crazy Crazy I'm only crazy after all No I'm only crazy After all No L'ho preso sulle gambe Oh mamma Eh no Non va molto bene Se muoio No Quasi a 20 ragazzi Perché ce l'avevo lì proprio Eh non potevo fare altro Sai che questo fa Mi rinascendo Ahia Eh mo io Eh Lo so più Ma vedi Mi sono passato Proprio in mezzo Ragazzi In mezzo In mezzo In mezzo Come questo Come questo Come questo Come questo Come questo Come questo E vabbè E sempre in 37 Oh Ma come Che aveva fatto Questo uvizio Eh vabbè Niente Adesso entriamo nel loop Dove non posso Chiudere nessuno Come sempre Vabbè Questo l'ho avuto Peso Impredibili Guarda te Non avevo Un'unica Visto Sto campionale Adesso Sì Olè Sì tanto Chiudo Poi la testa Sì Come è solo Un lanno Sto partite Eh Per un pelo Zio Perez Per un pelo Oh Come fate a morire Pazzesco E vabbè Oh era qua Ok No C'era lì Ah glitch Grafici Droni Glitch Un po' Tutto La mia È l'ultimo Uccisione Come sempre Benissimo Ragazzi Che dire Direi che possiamo Anche chiedere Qua la nostra Live Con un bel 3213 Col cecco Direi che abbiamo Spaccato abbastanza I culetti Quanto è bello Giocare col cecchino Mamma mia Colo duty Ti amo solo per il cecchino Perché se no Non ci giocherei No Ci giocherei lo stesso Diciamoci Però alla fine È divertente Dai Con questa Poi In realtà Caccia agli oggetti Scoperta oggi Darò la pazza gioia Magari Settimana prossima Prima Dell'arrivo Di World War 2 Magari Faccio un'altra Live Tattica Così facciamo Una Spettando World War 2 2 Così E niente ragazzi Spero che vi sia Piaciuto questo video Era un po' arrugginito Se hai visto la prima partita Ho fatto tipo 0-5 Di rate Ma Il resto è andata Direi molto bene Perché Soprattutto l'ultimo Abbiamo spaccato i culi Con Il cecchino E niente Io vi lascio Alla programmazione Che trovate sempre qui E Buona serata a tutti Adios